Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Teramo dove bassa l'affluenza nel primo giorno di screening nel capoluogo, nessuna fila ai 22 siti predisposti dal comune e sarà dunque difficile raggiungere il traguardo ambizioso del 60% della popolazione testata. Fino ad oggi in tutta la provincia teramana sono stati effettuati 9.300 test e riscontrati 32 casi di positività. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Parte in sordina a Teramo capoluogo il primo giorno di screening di massa, nessuna fila nei 22 punti strategici messi a disposizione dei teramani dal comune. I siti dove è possibile effettuare i tamponi rapidi o rofaringei sono stati individuati in base alle sezioni elettorali ed organizzati dalla protezione civile su incarico dell'ASL. L'affluenza nella prima mattinata di screening non è stata certo alta, piuttosto lenta ma costante. I teramani avranno modo di sottoporsi al test fino a domenica 20 dicembre e la speranza delle istituzioni è quella di arrivare a coinvolgere fino al 60% della popolazione. Un traguardo difficile se si considera l'andamento odierno, tuttavia c'è grande responsabilità tra chi sceglie invece di aderire alla campagna contro il coronavirus. Come è andata signora? Perché ha scelto di fare il tampone? Perché credo che sia una cosa giusta, almeno hanno una campionatura di persone che ce l'hanno o non ce l'hanno, uno magari va in giro e ce l'ha, è giusto che insomma... Lei lo consiglia anche ai suoi parenti? A tutti, lo consiglio a tutti. Non è una cosa... è un pochino fastidioso però dura veramente pochi istanti, però è giusto che insomma uno lo faccia, assolutamente. Buongiorno, è una buona giornata oggi? Eh sì, un tempo meraviglioso e soprattutto un'occasione per testare la popolazione su questo flaggello che ci sta colpendo. È la prima volta che fa il tampone? Sì sì sì, ma io da quando c'è stato il lockdown ho condotto una vita praticamente monacale, quindi sono stato sempre chiuso in casa. Quindi questa è un'occasione per vedere se sto sacrificio... E' servito. E' servito. Lo screening di massa è iniziato nei piccoli comuni del Terramano già da qualche giorno. Sull'intero territorio provinciale sono stati effettuati sino ad oggi 9.242 test e riscontrati 32 casi di positività. Gli ultimi a partire saranno domani Silvi e Giulianova e la campagna si concluderà per tutti domenica 20 dicembre. Si ricorda ai cittadini che potranno recarsi nei siti prescelti dalle ore 8 alle ore 16 e che una volta effettuato il tampone dovranno aspettare a casa l'essito che sarà comunicato entro tre ore dall'esame. L'ASL di Pescara ha illustrato questa mattina un importante progetto di telemedicina riservato a pazienti covid-19 positivi o in isolamento domiciliare. Sentiamo di più nel servizio curato da Paolo Renzetti. Una piattaforma digitale di telemonitoraggio utilizzata nell'ambito di uno studio osservazionale non farmacologico e no profit con una raccolta dei dati dei pazienti covid-19 positivi o in isolamento domiciliare è stata presentata ed illustrata questa mattina presso l'ospedale di Pescara. L'iniziativa nasce da una collaborazione fra la ASL pescarese e Confindustria Chieti Pescara. La piattaforma in realtà nasce per lo studio dei pazienti cronici, per monitorare i pazienti affetti da cronicità e da scarsa capacità motoria che stanno al loro domicilio. Noi avevamo realizzato questa piattaforma già lo scorso anno, vincendo un bando europeo ottenendo un finanziamento come medici di famiglia della Val Pescara. Noi siamo un'associazione di medici di famiglia della Val Pescara. Quando è iniziata la pandemia ci siamo resi conto, guardando le linee guida, guardando un po' quali erano le condizioni per trattare a domicilio i pazienti affetti da covid, che la nostra piattaforma era in condizione di rilevare tutti i parametri necessari per tenere sotto monitoraggio questi pazienti. E così abbiamo utilizzato perché noi con questa piattaforma monitoriamo pressione, monitoriamo saturazione, monitoriamo frequenza cardiaca, monitoriamo pressione, temperatura corporea. E questo secondo noi è un grande vantaggio, prima di tutto perché non fa sentire i pazienti soli. Noi li chiamiamo, li sentiamo, valutiamo come stanno, vediamo i loro parametri e soprattutto un sistema di alert ci consente di capire se stanno emergendo delle cose che rendono necessario modificare il setting assistenziale, cioè se bisogna ricoverare i nostri pazienti. Noi prendiamo un parametro con un sistema dotato di Bluetooth, il parametro viene inviato a un gateway, si chiama, dal gateway passa nella piattaforma, dalla piattaforma passa sui nostri device e noi li vediamo. Sì, a grande valenza tecnologica, ma mi piace ricordare che è ancora di più a grande valenza umana. Noi spesso parliamo di innovazione tecnologica che è sicuramente importante, ma dietro questo concetto ce n'è un altro più importante che è l'innovazione di pensiero. Noi nell'UCCP di Scafa abbiamo trovato le condizioni per poter presentare un progetto innovativo perché c'erano delle persone motivate che credevano in un modo diverso all'organizzazione e quindi è stato possibile anche poi avere il successo dell'applicazione stessa, della tecnologia. La tecnologia in fondo è qualcosa che si compra, il resto è qualcosa che invece si costruisce. Quindi è un bellissimo esempio. Da una parte le imprese che hanno donato, perché questo è stato frutto di donazioni, noi abbiamo aperto un fondo diciamo nel periodo di marzo quando iniziò il lockdown, un fondo che ha portato a un risultato molto importante. Adesso cambiamo argomento, ci spostiamo a Roseto dove questa mattina il sottosegretario alla giunta regionale Umberto D'Annuntis, su impulso della Faita Feder Camping, ha effettuato un sopralluogo in una zona fortemente danneggiata dell'erosione costiera. I rappresentanti dei campeggiatori hanno chiesto interventi urgenti e definitivi per cercare di risolvere il problema che mette a rischio anche la prossima stagione balneare su tutta la costa terramana e un po' in tutta la regione. Vediamo il servizio. Quella che doveva essere una risorsa, ma non solo per noi operatori, ma per chiunque abiti ovviamente nei comuni rivieraschi, si è tramutata in una minaccia. Il settore turismo in Abruzzo vale oltre il 13% del pool regionale e sicuramente il mare ne è una componente fondamentale in una regione completamente bagnata dall'Adriatico e in larga parte costituita da arenile. Ma l'erosione della costa, nonostante gli interventi del passato, continua a rappresentare una problematica forte per le attività ricettive che vivono del turismo balneare. Non è possibile che il mare sia all'interno delle nostre strutture. Basta vedere la costa qui nel Terramano, nella zona di Roseto, da Cologna fino alla foce del fiume Vomano, è veramente devastata. Ma non solo a Roseto, anche Martinsicuro, al Badriatico, per non dire Pineto, verso Scerne. È giunta l'ora di porre un rimedio definitivo a questo problema. Chiediamo quindi un intervento mirato, celere innanzitutto, poi mirato e organico, che non si riveli un semplice placebo ma una vera cura. Lo chiediamo a gran voce a questa amministrazione perché siamo sicuri che saprà ascoltarci. La regione dopo anni di studi ed approfondimenti ha varato il piano di difesa della costa, uno strumento che dovrebbe consentire di dare organicità agli interventi. Nel sopralluogo effettuato a Roseto dal sottosegretario regionale Umberto D'Annuntis per verificare i danni ai camping nei pressi della riserva del Borsacchio, è stato ribadito l'impegno a programmare la difesa del litorale con i fondi europei 2021-2027 e con il Recovery Fund. Chiaro che su queste zone già la regione Abruzza ha programmato degli interventi, sia per quanto riguarda la riferitura delle scogliere di questo centro qui di fronte ai camping, che sia per quanto riguarda la riferitura di scogliere di Colonia Spaggia per un importo di un milione di euro. È chiaro che sono degli interventi che serviranno a tamponare momentaneamente la situazione in attesa che svolga su effetti la programmazione 21-27, programmazione nella quale la giunta regionale ha messo come priorità la difesa della costa, la difesa della costa bussese e dei tratti particolarmente danneggiati. La stretta di Natale con la proclamazione della zona rossa per i giorni delle festività, se questo dovesse avvenire, preoccupa i commercianti che hanno già pagato un prezzo alto per le chiusure delle ultime settimane. Soprattutto il settore della ristorazione sarebbe quello che ne soffrirebbe di più. Allora vediamo il servizio. Dalla mezzanotte del 23 dicembre, probabilmente in tutta Italia e anche in Abruzzo, tornerà la zona rossa, negozi chiusi per i giorni di festa anche a cavallo del Capodanno e dell'Epifania. Cosa significa per il commercio questo? Per il commercio innanzitutto significa una chiusura anticipata di un percorso che in realtà si vede proprio in un apice negli ultimi giorni, un acquisto maggiorato all'interno delle attività commerciali. Di solito il 24 è una giornata di incasso incredibile, pur sapendo che c'è una flessione economica, però si aspettavano un incasso importante. Per la ristorazione è un danno irreparabile, perché si aspettavano di poter lavorare a pranzo e dopo un lockdown importante per loro, in realtà questo non potrà avvenire. Insomma ci aspettiamo su questa scelta del governo dei ristori importanti, che non siano più quei ristori che fino ad oggi sono stati elargiti. Adesso bisogna ragionare su un'economia che vada in percentuale, importante, 60-70% delle perdite ricevute, perché altrimenti non potranno riaprire tantissime attività. Dopo l'Epifania, tra l'altro, dovrebbero partire i saldi? Sì, il 5 che dovranno partire i saldi partiranno a questo punto il 7. Ci auguriamo e quindi a questo punto penso che sia la data giusta e che avremmo un periodo di zona gialla o al massimo arancione per poter cercare di far vendere quei capi invernali che altrimenti, sappiamo benissimo, in marzo e in aprile non verranno venduti. Siamo molto preoccupati di questa situazione. Ci rendiamo conto della pandemia, dobbiamo però trovare soluzioni adeguate che riescano a far mantenere in piedi il sistema economico, soprattutto il commercio, la ristorazione e la parte turistica. Io compro Montesilvanese, questa è l'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale a sostegno del commercio in città. Vediamo. In un periodo difficile, soprattutto per l'economia del territorio, abbiamo inteso, in sinergia con le associazioni di categoria, ragionare una campagna che potesse in questo periodo essere a sostegno delle attività locali. Molto spesso, soprattutto in questo periodo, è uso da parte dei cittadini, servirsi delle piattaforme nazionali e internazionali. In questo periodo invece, più che mai, c'è bisogno di sostegno da parte dei cittadini, soprattutto per quello che riguarda il tessuto economico cittadino. Per questo motivo, dopo aver illuminato la città nei giorni scorsi a dovere, in un periodo come quello che stiamo vivendo, è importante dare anche un po' di speranza e quindi illuminare e volevamo servire soprattutto a questo, abbiamo commissionato un video che verrà proposto sui social, proprio intento per incentivare l'acquisto da parte dei cittadini sul nostro territorio, a sostegno dell'attività commerciale. Vero è che il periodo, non sappiamo, è pieno di incognite, però nel momento in cui si potrà fare degli acquisti, è bene farli sul territorio. Su Montesilvano si può trovare di tutto, ci sono tanti ottimi negozi, tante belle attività e quindi perché servirsi di piattaforme esterne al nostro territorio. Se vogliamo sostenere anche le nostre famiglie, perché poi le nostre attività sono rette da famiglie dei montesilvanesi, dobbiamo assolutamente farlo acquistando sotto casa. Noi abbiamo fatto le nostre campagne promozionali, sul lungomare ci sono dei manifesti, ma detto questo ci auguriamo che questa pandemia finisca al più presto e torni la vita normale. Però io credo che questo possa dare un contributo all'aspetto sociale, all'aspetto umano e possa aver trovato la soluzione per far scoprire alle persone che il contatto umano, fare un acquisto sia a un momento di un contatto umano è diverso da un contatto elettronico. Lo dico perché dobbiamo rifavorire la comunicazione, dobbiamo favorire lo scambio, le battute, anche quando noi facciamo spesa che andavamo con i nostri genitori al mercato, la mamma diceva quanto costa e lei rispondeva costa 10, questa trattativa di dialogo comunque era un momento di grande socialità e il cliente per il commerciante è sagro perché trattare bene il cliente significa trattare bene la sua attività, il motto è tornate nei negozi sotto casa, superiamo questo momento triste che ce la faremo. Dobbiamo pensare ai nostri negozianti, ai piccoli artigiani che producono, quindi in questo momento particolare gli indroidi sono ridotti, quindi dobbiamo fare in modo che i cittadini di Montesilvano acquistino dalle nostre piccole aziende che stanno su tutto il territorio. Adesso andiamo nella Marsica, il consigliere comunale della Lega ad Avezzano, Tiziano Genovesi, torna sul mancato accordo fra Regione Abruzzo e Clinica Privata all'Immacolata per consentire l'ampliamento della rete ospedaliera con 67 posti letto Covid, secondo l'esponente del carroccio le responsabilità non sarebbero da imputare a Regione Abruzzo ma alla clinica che ha boicottato. Vediamo il servizio di Info Media News. Non c'è pace per l'Immacolata di Celano, i 67 posti Covid nella struttura privata non sono mai stati attivati, è stata revocata infatti nei giorni scorsi la convenzione della clinica con la ASL e la Regione, arrivata tra l'altro in ritardo e in un clima di estremo caos. Per Marsilio l'atteggiamento messo in atto all'interno della clinica stessa non ha permesso di assicurare gli impegni presi per far fronte all'emergenza pandemica. Stando alle indiscrezioni, molti tra i dirigenti medici si sono messi in malattia mentre altri hanno addirittura rassegnato le proprie dimissioni, creando un vero buco in termini di personale sanitario. Ad oggi non sono ancora chiare le motivazioni, ma l'impressione è che ci sia stata una forte volontà di far saltare l'accorto. Il consigliere comunale di Avezzano, eletto in quota lega Tiziano Genovesi, difende l'operato della ASL e della Regione Abruzzo e parla di boicottaggio, puntando il dito contro la proprietà. La Regione anche lì si è mossa secondo me in maniera molto funzionale, molto rispettando quelle che erano le procedure, quindi un plauso va agli operatori della Regione Abruzzo, al direttore sanitario e al direttore generale per aver fatto quella operazione. chiaramente lì è un problema interno alla proprietà della Clinica Immacolata perché il problema è nato sostanzialmente, come diceva lei, da quelle che sono le dimissioni o dal mettersi in malattia di alcuni primari, quindi c'è stata una volontà probabilmente della base della Clinica Immacolata a voler, passatemi il termine, boicottare questa operazione. Chiaramente la Regione ha preso atto dell'impossibilità di poter trasferire i pazienti in una struttura che non potesse garantire evidentemente l'assistenza sanitaria, ha revocato la concessione, quindi chiaramente non è imputabile alla Regione, è imputabile alla proprietà che evidentemente ne risponderà, qualora la Regione lo ritenga opportuno, di rispondere in sede legale. Chiaramente oggi il problema c'è, fortunatamente la pandemia sta man mano scendendo, quindi quello che è stato un disservizio provocato dalla proprietà dell'Immacolata, evidentemente non è automaticamente ribaltato sulla popolazione, quindi ci si preparerà per l'eventuale terza ondata, chiaramente adesso la Regione sta cercando di lavorare, sta lavorando, sta trovando altre strutture idonee per poter ospitare i malati in caso dovesse malauguratamente tornare la terza ondata di Covid. L'ASM inizia la raccolta dei rifiuti anche a Capitignano, dalla raccolta porta a porta al ritiro degli oli e all'apertura di un centro intercomunale, questi servizi messi a disposizione, vediamo il servizio di Luciana Celeste. Nel comune di Capitignano entra a far parte ASM per la raccolta differenziata, un progetto che vuole portare il comune di Capitignano ad un sistema ecosostenibile, dalla raccolta degli oli alla normale raccolta porta a porta per i residenti tramite dei bidoni che sono stati consegnati alla popolazione ed anche all'apertura di un centro di raccolta intercomunale per i materiali ingombranti. Come in ogni raccolta differenziata ci sarà un calendario da rispettare per il ritiro dei rifiuti. Il sindaco di Capitignano, Maurizio Pelosi, si ritiene molto soddisfatto di questa collaborazione nuova all'interno del proprio comune. Siamo entrati nella compagine sociale di ASM da qualche mese ormai e l'attività è iniziata da subito, stiamo in questo momento distribuendo le lattine per gli oli esausti e i sacchetti biodegradabili e abbiamo fatto degli opuscoli insieme con ASM che stiamo distribuendo alla cittadinanza. Al momento mi sembra che vada molto bene la raccolta, i cittadini cominciano ad abituarsi a distinguere i vari rifiuti e sicuramente miglioreremo e dovremo migliorare anche come informazione, anche verso le scuole, insieme sempre con l'ASM e speriamo di arrivare al più presto alla quota stabilita del 65-70% di differenziata. Infine per quello che riguarda i materiali ingombranti voglio ricordare ai miei cittadini che c'è il centro di raccolta intercomunale presso Piedicolle di Montreale che è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11. Ed ora siamo alla pagina dello sport, partiamo dal calcio e dalla serie B. Stamani il Pescara ha ripreso gli allenamenti al centro Vestina per preparare il match di sabato contro il Monza, match che sarà diretto dall'Aquilano Dionisi. Regolarmente in campo Balzano che contende la maglia da quinto a Bellanova. Possibile qualche cambio in mediana con Fernandez e Omeonga che cercano una maglia da titolare contendendola a Val di Fiori. Davanti Setterra va verso una riconferma dal primo minuto. Gara di Pisa intanto che ha messo in evidenza pregi e difetti su cui il tecnico Breda continua a lavorare. Il servizio è di Andrea Costantini. Il Pescara è tornato da Pisa con uno 0-0 che fa più morale che classifica, anche se a ben guardare tra le ultime 5 squadre del campionato il Delfino è l'unica ad aver fatto un piccolo passo. Più morale però perché c'era la necessità di reagire alla sconfitta con Vicenza e bisognava farlo contro una squadra riduce da due vittorie consecutive e su di un campo storicamente tabù. Le due facce di questo 0-0 sono il non aver subito gol, la seconda volta su tre partite della gestione Breda, ma anche non aver minimamente insidiato quella che era la peggior difesa del campionato. Sul primo aspetto ha inciso la compattezza mostrata dal Pescara in fase difensiva, la prova risoluta dei tre centrali e dei due quinti, la bravura di Fiorillo, il migliore fra i biancazzurri, che ha fatto parate importanti comunque su conclusioni della media e lunga distanza. Determinanti le due su Mazzitelli, d'altro canto appunto il Pescara è stato evanescente in avanti, in primis per la mancanza di Setterra, entrato a mezzo servizio solo a metà ripresa e per la solita prova inconsistente di un Capone in crisi di identità perenne. Ma non è secondario all'apporto mediocre dato dal centrocampo con Memuschei e Maestro Appannati, l'albanese era però riduce da una gran prova con Vicenza e con un Val di Fiori ancora troppo al di sotto delle aspettative. Resta però una inversione di tendenza evidenziata nelle tre partite della gestione Breda, la squadra in generale sembra avere uno spirito battagliero e questo è un ingrediente imprescindibile per provare a risalire. C'è da lavorare, però l'importante è che ci sia questa base, questo atteggiamento, questa voglia di non prendere i gol. Mi è piaciuto anche stavolta l'atteggiamento da parte di chi è entrato, che ha rialzato i ritmi, che ha dato intensità contro una squadra che in ogni caso è in crescita e ha uno dei migliori attacchi come gol fatti del campionato e se tu hai qualche tiro da lontano hai concesso veramente poco. Tutto adesso che giochi ogni tre giorni anche io ho bisogno di conoscere i ragazzi, capire che tipo di recuperi hanno bisogno, che tipo di atteggiamento hanno. Ci stiamo scoprendo perché è ancora poco che lavoriamo insieme, nello scoprirsi l'importante è portare a casa a punto. Ora due torni ravvicinati i casalinghi contro Monza e Brescia, sabato alle 16 arriva la compagine Brianzola che dopo alcuni passi falsi ora sembra in ripresa e vuole avvicinarsi a quelle posizioni di vertice per cui è stata costruita dall'asse Berlusconi-Gagliani. Dopo il tonfo di Reggio Emilia la squadra ha risposto, espugnando Venezia e travolgendo Lentella, ma il tecnico Cristian Brocchi tiene i piedi per terra. Non dobbiamo aver bisogno di prendere degli schiaffi come ho già detto per poi dopo ripartire di fatto. Dobbiamo lavorare sempre con la massima concentrazione, dobbiamo lavorare sempre da squadra con lo spirito giusto. Se Mario Balotelli è ancora indietro e a Pescara difficilmente ci sarà, il Monza può far leva sulla vena di Boateng, autore di una doppietta due giorni fa. Eh ma Prince è a livello di personalità, è qualcosa di grande, di grandissimo, un ragazzo eccezionale, io lo guardo e sorrido a volte senza farmi vedere da lui perché percepisco la sua voglia, percepisco la sua carica, percepisco tutto quello che lui vuole fare, che sono state le promesse che ha fatto questa società a me quando è venuto qui e quindi è proprio bello vederlo soprattutto come lavora, come si impegna e quanto ci tiene. Sabato dunque torna in campo il Pescara per la partita contro il Monza ma in casa Biancazzurra continua a tenere banco la vicenda relativa al centro sportivo con una delegazione della società che questa mattina si è recata a Silvi. Probabili novità in casa Pescara non tanto dal punto di vista degli uomini in campo che Breda schiererà sabato contro il Monza perché per quelli bisognerà attendere ancora qualche ora, quanto relative al centro sportivo. Questa mattina infatti sono state pubblicate delle foto sulla pagina Facebook ufficiale del Delfino che ritraggono il campo dello stadio di Silvi e dell'adiacente centro federale territoriale con tanto di didascalia. Nuovi progetti in casa Pescara, working progress. Inevitabile pensare ad un possibile trasloco da parte della squadra di Breda, soprattutto se la vicenda del Poggio, che ha visto una nuova puntata con botta e risposta tra Sebastiani e De Cecco, dovesse protrarsi. Silvi inoltre in passato era già stata una possibile destinazione per gli allenamenti del Pescara, anche se poi non se n'è fatto più nulla. Questa mattina una delegazione del Delfino si è recata proprio a Silvi per valutare l'opportunità di riqualificare l'area e farla diventare il nuovo polo biancazzurro. Sempre questa mattina seduta di allenamento presso il centro sportivo Vestina per la formazione reduce dal pare senza reti contro il Pisa di martedì sera. Modifiche intanto agli orari dei match a ridosso di Capodanno. Il Pescara il 30 dicembre giocherà alle ore 18 all'Adriatico Cornacchia contro il Cosenza. Stesso orario alla prima del nuovo anno, lunedì 4 gennaio per la prima gara lontano da casa del 2021, sempre alle ore 18 contro la Reggiana. Sabato tuttavia è di nuovo campionato e l'impegno per i biancazzurri è di quelli complicati perché arriva il Monza che ha appena rifilato una cinquina alla Virtus Entella nel turno di campionato appena alle spalle. Oggi per i Brianzoli è previsto un allenamento povenidiano a due giorni dalla prossima gara sabato alle 16 all'Adriatico di Pescara. Ancora indisponibile Derrico mentre Paletta ha ripreso gradualmente a correre, così come corre verso il ritorno in campo Mario Balotelli. L'attaccante che non gioca una partita ufficiale da oltre nove mesi, l'ultima sua apparizione risale al 9 marzo scorso, sconfitta del Brescia per 3-0 contro il Sassuolo. Sta infatti lavorando intensamente in questi giorni per recuperare la brillantezza fisica e mettersi così a disposizione di Mr. Brocchi. E allora adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie C, domenica sarà la volta del Teramo che al Bonolis attende il fanellino di Coda Cavese, gara che per l'esterno Mancino Biancorosso Alberto Tentardini non va assolutamente presa sotto gamba. Vediamo. Molti giocatori spesso durante la loro carriera in alcuni frangenti si lamentano il fatto che magari giocano poco. Alberto Tentardini arriverà il giorno che dirà io gioco troppo. Quello penso perché sennò non si dovrebbe fare questo mestiere, anzi bisognerebbe aumentarsi solo quando si gioca poco o quando si gioca troppo. Comunque scherzi a parte è un anno, è un periodo fortunato, un periodo nel quale sto sempre giocando e forse anche perché fisicamente mi sento molto bene, poi la fortuna da quello che sta vedendo il mister crede in me e stiamo andando bene. Sono tutte conseguenze che poi portano un giocatore a esprimere meglio di sé o comunque a fare determinati tipi di percorsi con una continuità elevata. Il termo è sempre per quello. L'unica cosa è che a differenza magari delle prime dieci partite dove un mezzo episodio ci poteva andare in un verso, adesso ci sta andando in un altro, c'è sicuramente il fatto che non siamo più una sorpresa, c'è sicuramente il fatto che magari tenere un ritmo forse nato come abbiamo avuto all'inizio non è facile. Però ciò nonostante comunque a parte con la Ternana noi non abbiamo mai sfigurato, non abbiamo mai fatto una prestazione deludente. Chi gioca a calcio sa benissimo che anche ultimo in classifica può venire qua in casa e dire la sua, anche perché abbiamo guardato prima, la Cavese è una squadra che è in trasferta, ha fatto quasi i nostri stessi punti. La pecca della Cavese da quello che abbiamo visto era in casa, ha fatto un solo punto, tutti gli altri punti li ha fatti fuori casa, quindi è una squadra che comunque dà fastidio, è una squadra che ha dei buoni giocatori perché comunque è rimasto un po' organico dell'anno scorso, l'anno scorso era una squadra molto fastidiosa da incontrare soprattutto in trasferta. Quindi ovviamente noi come sempre si gioca sempre per i tre punti, perché abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi, abbiamo voglia, abbiamo fame, però da lì a dire che bisogna vincere a tutti i costi e prendere quasi sotto gamba è diversa la situazione. Noi ovviamente l'intento è quello, l'intento è quello di vincere, ma come era l'intento di vincere anche con la Ternana. La cosa che dobbiamo essere uguali a fare è non sottovalutare assolutamente la Cavese. Serie D, successo fondamentale nel recupero di ieri per il Giulianova. Corsaro sul campo dell'atletico Porto Sant'Elpidio, le voci dei due allenatori con il Giuliese del Grosso che ha elogiato la prova dei suoi in un match delicatissimo. Vediamo. Sì, siamo partiti i primi dieci minuti, credo titubanti, però d'altronde è una squadra che è giovane, una squadra che un attimino abbiamo giocato in maniera diversa per controporsi a Giulianova per il loro modulo. Tutto sommato poi avevamo pregio anche in mano la situazione a partita, avendo anche due belle occasioni per portarci in vantaggio, non le abbiamo sfruttate e da lì poi alla prima occasione ci puniscono e poi dopo l'episodio del rigore che a mio avviso non c'era perché non c'era. Poi l'espulsione è travisata dall'arbitro perché non era stato Orazzi, ma Cantarini a prenderla poi, come dice lui, con la mano, col braccio, tutto e perciò da lì poi dopo l'espulsione la partita è finita, dopo il 2-0. Però la squadra a mio avviso si è comportata bene, logicamente abbiamo i nostri problemi, le nostre lacune, ma noi non è che vogliamo alibi, nessuno ha voluto alibi perché noi comunque, io professionalmente mi sto facendo allenamenti con i ragazzi e i ragazzi si allenano professionalmente, con impegno e perciò non posso dirgli niente. Guarda, hai detto bene, è stata una bella vittoria, ci dà un po' di morale, è stata una prestazione comunque positiva, è piaciuto l'atteggiamento, la cattiveria con cui si è approcciata la squadra, però io sono molto realista, non abbiamo assolutamente fatto nulla, un passettino in avanti, ma la strada è ancora piena di insidie, piena di difficoltà, ho ancora mezza scuola fuori, quindi tra 4 giorni ci tocca rigiocare, quindi la tensione non si abbassa, anzi la teniamo sempre alta perché non abbiamo fatto nulla, però non nascondo che questo è un passo importante che abbiamo fatto fuori, ho ringraziati già quando dovevo, poi il gol e l'abbraccio è stata la dimostrazione che comunque siamo uniti, siamo compatti, quando i risultati non arrivano non è detto che sempre che ci siano problemi interni, ci sono magari dei periodi che non vanno le cose, ci sono dei momenti in cui sì, ci vuole anche del tempo per trovare la giusta amalgama. Il TG6 termina qui, i nostri servizi come sempre sono on demand su tutte le piattaforme YouTube, sui social e sul sito tv6.it, da parte mia a tutti voi l'augurio di una buona giornata.